Quasi rissa tra due senatori, la scintilla arriva durante la discussione sul premierato. Intanto il voto del Senato slitta all'11 giugno. Locali pubblici chiusi nella giornata del G7 a Brindisi, città blindatissima e da indiscrezioni il presidente degli Stati Uniti Biden sarà ospitato a Savelletri. Importazioni selvagge per tutelare il Made in Italy, il blitz della Coldiretti nel porto di Bari dove ormeggiava la nave fantasma carica di grano turco. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione interregionale di Antenna Sud con le notizie dei territori di Puglia e Basilicata. Apriamo con uno sguardo, come di consueto, sulla politica capitolina rissa sfiorata tra due senatori in aula durante la discussione sul premierato che porta a scompiglio tra maggioranza e opposizioni il voto del Senato slitta a martedì 11 giugno. Sentiamo tutti i dettagli. Scoppia il parapiglia in aula tra alcuni senatori di Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle con i commessi che sono dovuti intervenire per impedire la rissa con tanto di sospensione da parte della vicepresidente Anna Rossomando e convocazione dell'ufficio di presidenza da Ignazio La Russa. Il premierato accende gli animi di maggioranza e opposizione a farlo e l'intervento del pentastellato Ettore Liccheri che criticando alcune azioni del governo ha domandato, sapete perché voi potete farle? Perché voi siete Giorgia. Premier che secondo il più ha già buttato le mani avanti dicendo che se la riforma non dovesse essere approvata comunque non si dimetterà. Sta iniziando già a lanciarsi avanti dicendo che invece non lo farà. Il punto è che oltre a non fare questo non fa tutta una serie di altre azioni che quando era nella sua campagna elettorale all'opposizione le ha detto di fare per i cittadini. E se lei dovesse essere sconfitto, lei decidesse di rimanere a fare la premier, di fatto dimossa che ha scarso senso delle istituzioni e della democrazia ma questo significherebbe che avrebbe le ore contate alle elezioni politiche perché andrebbe a casa. Lei invece vuole pieni poteri per scegliere il Parlamento e per sciogliere il Parlamento. Oggi è il Parlamento che sceglie il governo e il Presidente della Repubblica garante all'unità nazionale. Noi vorremmo che questi principi rimanessero saldi e solidi e faremo di tutto per fermare questo disegno della destra. Del resto, tra maggioranza e opposizioni sulla riforma, non c'è punto di incontro. Fanno istruzionismo. Loro non vogliono questa cosa. Loro vogliono l'intrigo di palazzo. Noi, l'elezione popolare, tra queste due cose, che facciamo? L'intrigo di palazzo popolare? Noi siamo per la democrazia. Loro sono per la palazzocrazia. Abbiamo mettato anche un termine. Uno degli errori che fece Renzi fu proprio quello di personalizzarlo. Quindi mi sembra che la storia dovrebbe insegnare che è una riforma costituzionale. Se ci sarà referendum, i cittadini decideranno se confermarlo o meno. E quindi bisogna parlare di altro. Ecco, io non vedo grandi polemiche da questo punto di vista. Se la sinistra cercasse, invece di fare tutte queste trame nel palazzo, queste teorie, di dire qualcosa ai cittadini italiani, forse potrebbero prendere qualche voto e sperare di vincere le elezioni, invece di provare sempre a trovare scamotage, manovre di palazzo, questioni per fare ribaltoni. Provate a prendere i voti. Locali pubblici sul lungomare chiusi per tutta la giornata brindisi il 13 giugno in occasione della cena per il G7 al Castello. L'ordinanza è stata richiesta dalla Questura. Per una sorta di singolare congiuntura astrale, la zona rossa per il G7 sul lungomare Regina Margherita inizierà da questo punto, ossia da Palazzo Montenegro, che altro non è che la residenza privata del prefetto di Brindisi. Da qui in poi, il 13 giugno, sarà off-limits per tutti, sino a quando, a tarda sera, gli illustri ospiti del castello non avranno lasciato la città. A cenare con vista mare quella notte saranno soltanto i capi di Stato e di governo, ospiti del Presidente della Repubblica. Per motivi di sicurezza, infatti, su richiesta della Questura, bar, ristoranti e pizzerie che si trovano sul lungomare Regina Margherita e sul lungomare Vespucci, proprio di fronte al castello, quel giorno saranno chiusi. Sarebbe complicato per le forze di polizia gestire i controlli se i locali, anche quelli al di fuori della zona rossa e con affaccio sul seno di Levante, restassero aperti. Per motivi meno comprensibili, ma evidentemente ritenuti importanti, è stata decisa la chiusura di alcuni chioschi lontani dal castello, in particolare nei pressi dello Stadio Fanuzzi e davanti alla stazione ferroviaria. In quella giornata sarà impedito anche l'utilizzo del sottopasso pedonale di via Appia e il transito dal passaggio a livello di via Osanna. Limitazioni al traffico saranno imposte anche in via Carmine, dall'intersezione di via Giordano Bruno fino a via Cristoforo Colombo, in piazzale Lenio Flacco e in via Pasquale Camassa. Si tratta di percorsi di emergenza che saranno lasciati liberi per eventuali necessità dell'ultimo istante. Continuiamo a parlare del G7, con ogni probabilità sarà Masseria San Domenico a Savelletri ad ospitare il presidente degli Stati Uniti Biden, nella zona sarà ovviamente anche questa completamente blindata. Tra pochi giorni anche qui sarà tutto blindato, questa è la strada stata alle 16, l'arteria che collega Brignisi con Bari, passando ovviamente per Fasano. Dopo la scena inaugurale organizzata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i grandi della terra si sposteranno proprio verso Fasano per dormire e proseguire i lavori di uno dei G7 più importanti di sempre. Ci avviciniamo al territorio di Savelletri, avvolti tra olivi secolari, anche qui ci sono lavori in corso ovunque. Finalmente queste strade, spesso disastrate, saranno degne di un territorio così bello ricercato. Sugli aspetti organizzativi è sempre tutto top secret, ma prende consistenza la notizia che la residenza di Joe Biden sarà a Masseria San Domenico. Questa di fatto tra qualche giorno diventerà la zona più protetta e presidiata al mondo. Quello è l'ingresso di Masseria San Domenico, il resort che stando ai rumors di questi giorni lanciati proprio in anteprima da Antenna Sud dovrebbe ospitare il presidente degli Stati Uniti, John Biden. Guai a fare domande ovviamente in questo momento, però qualche indizio girando per la zona lo abbiamo colto. C'è un lungo viale che divide la litoranea dalla masseria, poi un primo cancello. Su queste chianche muoverà i primi passi Biden per scorgere la piscina, godersi l'aria fresca o raggiungere la sua suite. La struttura è dotata di 40 camere, spa e talassoterapia. Qui un pernottamento può arrivare a costare oltre 3.000 euro. Ovviamente sarà off-limits per chiunque. Le prenotazioni per i giorni precedenti e successivi al G7 risultano bloccate anche online. E anche qui attorno ci sono lavori in corso ovunque. Ogni tanto transita qualche mezzo militare. Indizi appunto. Di certo Biden potrà godersi uno dei posti più belli e apprezzati del nostro paese. E c'è l'accordo tra Regione e Fiera del Levante di Bari sul rilascio degli spazi occupati dal Covid Hospital durante la pandemia. Alcuni padiglioni saranno fruibili da subito, per altri sarà la stessa fiera a decidere nei prossimi sei mesi. Si chiude il cerchio sui locali dell'ex Covid Hospital in Fiera del Levante a Bari. La campionaria quest'anno si sposta un po' più in là per permettere agli operatori di lavorare senza il gioco del caldo e prevede lo start a ottobre e non nella canonica finestra di settembre. In compenso potrà contare sull'accordo condiviso dalla Regione con l'ente Fiera del Levante e nuova Fiera del Levante per il rilascio dei padiglioni già usati per l'ex ospedale Covid del capoluogo. Alcuni spazi saranno fruibili con estrema facilità, spiegano, è il caso delle aree dei padiglioni 7, già divito ad ab vaccinale, e 10 della Hall 160 di Via Verde del parcheggio 15. Saranno immediatamente liberabili e riutilizzabili a fini fieristico-espositivi con interventi minimi effettuati in tempi brevi sulla base dei progetti di asset e a cura del provveditorato della Regione. Ne fanno sapere dall'ente altra storia per i padiglioni 18, 13, 11 e 9, per i quali sarà la Fiera a decidere nei prossimi sei mesi se mantenere o meno strutture e impianti per esposizioni e manifestazioni di tipo medico, scientifico e formativo, potendo disporre di un'infrastruttura composta tra l'altro da impianti idrico-elettrici, cablaggi, tubi per gas medicinali, impianti per la pressione negativa, condizionamento e filtraggio e spazi per le attività assistenziali sanitarie. La cronaca, un ordigno rudimentale, è stato collocato e fatto esplodere la notte scorsa davanti a un bar a Presiccia Aquarica nel sud Salento, dove erano in corso lavori di ultimazione in vista della prossima apertura. I danni ingenti pochi giorni fa, la notte tra il 15 e il 16 maggio, lo stesso bar era finito nel mirino degli attentatori, ma in quell'occasione la bomba non era esplosa per un difetto della miccia ed era stata poi disinescata dagli artificieri. Un ordigno rudimentale è stato collocato e fatto esplodere a Presiccia Aquarica nella notte tra martedì e mercoledì, nel mirino dei malviventi, un bar prossimo all'apertura situato in piazza Villani. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 4.45, ha provocato ingenti danni allo stabile, alle abitazioni vicine alle auto parcheggiate nei paraggi. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i residenti della zona, i quali hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine avendo subito capito di cosa si trattasse. Pochi giorni fa, infatti, nella notte tra il 15 e il 16 maggio, la stessa attività commerciale era stata già oggetto di intimidazione avvenuta con le stesse modalità, ma in quell'occasione la bomba non era esplosa per un difetto della miccia. Sul posto, oltre alla polizia locale e ai carabinieri del locale comando stazione a cui sono affidate le indagini, si sono recati anche i colleghi del nucleo artificieri antisabotaggio di Lecce per i rilievi, al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, le testimonianze dei vicini e tutti gli elementi utili per risalire all'identità dei responsabili dell'intimidazione. I titolari del bar che gestiscono anche un altro ristorante in paese avevano riferito ai carabinieri di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Violenta rapina, mano armata, zapponeta nel Foggiano, nella notte un comando di sette persone armate si è introdotta in un'abitazione di campagna derubando un bottino di 100.000 euro. Terrore per una famiglia di zapponeta nel Foggiano. Una banda di rapinatori ha fatto eruzione la notte scorsa nella loro abitazione, una casa di campagna alla periferia del paese, aggredendo l'anziana proprietaria e le sue figlie, impossessandosi di denaro e gioielli, quantificati dagli stessi proprietari in una somma di circa 100.000 euro. Il gruppo di malviventi, composto da 6-7 uomini armati e con il volto coperto, ha sorpreso nel sonno la famiglia, composta interamente da donne. Durante l'assalto la proprietaria ottantenne è stata brutalmente colpita con un bastone. I banditi hanno costretto le vittime a consegnare monili in oro e denaro contante prima di darsi alla fuga. Le donne hanno immediatamente dato l'allarme chiamando il 112 e un parente che vive nelle vicinanze. Quest'ultimo, giunto sul posto, è stato minacciato con una pistola. I rapinatori hanno esploso alcuni colpi in aria prima di scappare su un'auto di grossa cilindrata. L'anziana, ferita, è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Attualmente sono in corso posti di blocco e perquisizioni. Donna uccisa dopo una lite. Il 55enne Brindisino accusato dell'omicidio della cognata interrogato in carcere nell'udienza di convalida ha risposto alle domande del giudice ma è contestata l'aggravante per futili motivi. Adamo Sardella ha risposto a tutte le domande fornendo la sua ricostruzione dei fatti. Il carpentiere Brindisino, accusato dell'omicidio della cognata Irene Margherito e del tentato omicidio del compagno della donna, è stato interrogato nell'udienza di convalida dell'arresto svoltasi nel carcere di Brindisi davanti al GIP Stefania De Angelis. Assistito dall'avvocato Vito Epifani, il 55enne, che non ha precedenti penali, ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere. Resterà in carcere con la duplice pesantissima accusa, omicidio e tentato omicidio, aggravata dai futili motivi. La difesa non ha presentato alcuna istanza al GIP. Secondo quanto emerso dalle indagini, Sardella sarebbe giunto sul luogo dell'appuntamento con la cognata a bordo della golf condotta dal figlio della vittima per un incontro che doveva essere chiarificatore, legato anche ai rapporti tra la donna e il suo secondo genito. Ma giunto sul posto, scendendo dall'auto, avrebbe impugnato una pistola calibro 7,65 facendo fuoco subito e colpendo la donna con una pallottola che è entrata dal mento ed è fuoriuscita dall'orecchio sinistro. L'arma si sarebbe poi inceppata impedendogli di colpire anche il compagno della vittima con il quale è nata poi una colluttazione. Le indagini sono condotte congiuntamente dai poliziotti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi e coordinate dal PM Paola Palumbo. Dopo essersi rifiutato di prendere parte a una truffa fu picchiato e sequestrato e dopo oltre un anno i carabinieri arrestano un 29enne di Taranto e un cinquantenne di Martina Franca. Per convincerlo a sborsare i soldi oggetto di richiesta estorsiva lo avrebbero sequestrato e picchiato brutalmente. Con questa accusa i carabinieri di Taranto hanno arrestato un 29enne ionico e un cinquantenne di Martina Franca in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP di Lecce su richiesta della DDA Salentina. L'episodio contestato risale ad aprile 2023 quando i due indagati avrebbero minacciato e infine malmenato un 35enne di Martina Franca cui avevano cercato di estorcere 15.000 euro illecita pretesa a mo' di compensazione per il rifiuto della vittima a portare a termine una truffa ai danni di una società di noleggio di automobili. Il piano era quello di prendere in locazione il mezzo quindi denunciarne il furto falso e infine smontarlo per rivendere i pezzi sul mercato dei ricambi. Il piano sfumò ma il giovane pagò a caro prezzo quel rifiuto picchiato e sequestrato fu rintracciato dai militari mentre vagava in città. Da lì partirono le indagini che hanno portato ai recenti arresti. Blitz nel porto di Bari da parte della Col di Retti Puglia che con barche e gommoni ha raggiunto la cosiddetta nave fantasma quella carica di grano turco immigrato e questo per la mobilitazione a difesa del Made in Italy. Vediamo che cosa è successo. 800% dalla Turchia, oltre il 1000% dalla Russia e il 170% dal Kazakistan solo nel 2023 rispetto all'anno precedente mentre nei primi due mesi del 2024 dalla Turchia sono stati importati quasi 35 milioni di chili di frumento duro quasi la stessa quantità registrata in tutto il 2022 ma crescono del 47% anche le importazioni di grano duro dal Canada trattato con glifosato secondo modalità vietate a livello nazionale. E quanto denuncia la Col di Retti Puglia che nelle scorse ore ha letteralmente assaltato una imbarcazione vicina al porto di Bari con gommoni e barche a vela che sono salpate all'arembaggio della nave fantasma carica di grano turco immigrato per la mobilitazione a difesa del Made in Italy e impedire che vengano spacciati come pane e pasta italiani quelli ottenuti con grano importato. C'è una barca che si chiama Alma un enorme contenitore di 20.000 tonnellate che ha fatto il giro delle sette chiese è stata rifiutata in Tunisia ha costeggiato la Grecia, guarda caso oggi è in rada vicino al porto di Bari mentre a Bari sono già dentro altre due barche una che ha bandiera maltese l'altra cipriana che in qualche modo portano grano turco all'interno del nostro territorio. Vogliamo dimostrare che se si fa entrare un prodotto un grano che persino la Tunisia rifiuta perché è contaminato non è assolutamente accettabile che arrivi nel nostro paese con grave rischio dei nostri consumatori è diventata legge la stretta anti-autovelox per installarli ai sindaci servirà il via libera del prefetto ai comuni 12 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Mani legate ai comuni più potere ai prefetti e norme più stringenti su limiti e segnali di avviso è partito il nuovo corso in tema di autovelox cavallo di battaglia di Matteo Salvini una vera stretta che inizia limitando l'autonomia dei comuni perché d'ora in poi sarà il prefetto a decidere dove potranno essere collocati gli autovelox. Eccone qui uno questo è stato installato per obbligare gli automobilisti a rallentare. Un provvedimento che riguarda ovviamente anche le nostre strade e i comuni di Puglia e Basilicata l'autovelox è uno strumento che serve ad aumentare la sicurezza stradale ma talvolta è considerato invece uno strumento per riempire le casse dei comuni. E così da oggi cambia la normativa per installare un autovelox sarà più difficile per i comuni. Anche l'uso dei dispositivi mobili quelli montati su tre piedi ai lati delle strade e presidiati dalla polizia locale dovrà essere coordinato con la prefettura mentre prima le amministrazioni locali potevano agire in autonomia. I comuni dovranno dimostrare che sul tratto di strada dove vogliono posizionare un occhio elettronico c'è un alto tasso di sinistri fornendo un'accurata analisi del numero della tipologia e soprattutto delle cause con particolare riferimento alla velocità come causa principale. In città stop autovelox sotto i 50 km orari fuori dall'abitato invece non potranno essere installati dove il limite è inferiore di oltre 20 km orari a quello previsto dal codice della strada. Restiamo sul time ma nonostante sia stato motivo di varie polemiche l'autovelox di Varco Dizzo all'ingresso di potenza in Basilicata pare rispetti invece tutte le misure previste dal nuovo decreto. È stato e continua ad essere motivo di numerose polemiche l'autovelox ubicato sulla strada statale 7 Basentana all'ingresso di potenza est tanto da essere diventato uno dei temi di scontro tra i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative. All'inizio aprile, secondo quanto dichiarato da alcuni consiglieri comunali di opposizione erano oltre 57.000 le sanzioni elevate dall'apparecchio attenzionato per un introito di circa 7 milioni di euro somma che arriva fino a 8,5 milioni di euro se si considerano i tre autovelox installati nel comune di potenza. La questione sulla omologazione dell'autovelox di Varco Dizzo è stata definitivamente chiarita con la sentenza 466 2024 del Tribunale di Potenza che ne ha confermato la conformità con le vecchie disposizioni di legge in materia con la soddisfazione della comandante della Polizia Locale di Potenza Maria Santoro anche leggendo quelle che saranno le nuove disposizioni previste dal decreto interministeriale infrastrutture interno che disciplinerà le modalità di collocazione e uso degli autovelox come annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini il rilevatore di velocità all'ingresso della città capoluogo dovrebbe rispettare le principali norme previste essendo segnalato due chilometri prima abbassando il limite di 20 chilometri orari da 90 a 70 e non avendo altri autovelox a distanza ravvicinata ragione per cui riproponiamo l'invito della comandante della Polizia Municipale di Potenza rispettate i limiti di velocità a tutela della sicurezza di tutti in Puglia arriva le rete 5G ad Andria attraverso ripetitori che sorgeranno a breve anche in tutte le città del Tacco d'Italia in particolare in quella federiciana i residenti della zona in cui sorgerà una colonnina radio dicono no alle onde elettromagnetiche siamo qui perché a breve sorgerà una stazione base radio a ridosso delle nostre abitazioni e quindi stiamo chiedendo un intervento a chi può darci una mano sono i residenti di via Scipione l'Africano in sitina d'Andria per ribadire la contrarietà all'installazione di un'antenna della telefonia nelle vicinanze delle abitazioni e di una scuola dell'infanzia si tratta di una tecnologia che permette in particolare di usufruire di una velocità di rete maggiore e di un'aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico dati è più intenso se possano o meno provocare danni alla salute pubblica non è ancora chiaro resta un tema controverso in assenza di evidenze scientifiche come certificato dal Comitato Scientifico Europeo eppure in Puglia sono spuntate come funghi già a Bari e ad Andrea vogliamo che qualcuno ci ascolti innanzitutto e fermi questo cantiere perché non è giusto che i nostri figli debbano vivere sotto la minaccia di queste onde elettromagnetiche i residenti di via Scipione l'Africano hanno chiesto alla sindaca di Andrea Giovanna Bruno l'immediata moratoria delle installazioni dei ripetitori 5G a cominciare dal blocco del cantiere in una nota divulgata a mezzo stampa dall'attivista sociale Savino Montaruli per l'associazione di impegno civico Io ci sono scrivono si continua ininterrottamente senza neppure rispetto delle norme vigenti a costruire il palo della morte che sta scombusolando le vite delle persone una situazione drammatica continua la nota che sta sollevando le coscienze democratiche di chi non si rassegna nel sentirsi dire non possiamo farci niente quando in realtà invece si potrebbe fare tanto come stanno facendo altri sindaci coraggiosi che non hanno siglato nessun accordo di cooperazione Prima riunione per il prefetto Silvana D'Agostino a Barletta del Comitato per l'Ordine Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza in tutta la Sesta Provincia tra i temi trattati in particolare la possibile stretta sugli erari di chiusura dei locali notturni e poi nei prossimi giorni ci sarà anche una riunione proprio insieme alle associazioni di categoria Sono iniziati ufficialmente i lavori del nuovo prefetto della Sesta Provincia Pugliese a Barletta la prima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del Presidente della Provincia dei Sindaci dei Comuni Capoluogo e dei tre vertici provinciali delle Forze dell'Ordine tra i primi temi scottanti per il territorio trattati rapine ed assalti agli autotrasportatori furti da auto criminalità rurale e danneggiamenti con finalità estorsive e ritorsive per l'arrivo dell'ormai imminente stagione estiva con il conseguente incremento notevole dell'afflusso di turisti e visitatori sul territorio emersa l'esigenza di uniformare gli orari di chiusura degli esercizi pubblici nelle ore notturne andando a toccare un tema estremamente sensibile per i tanti residenti nelle zone della Movida che spesso hanno lamentato una difficile convivenza con i locali notturni a tal proposito nei prossimi giorni verrà convocata una riunione allargata a cui parteciperanno anche i rappresentanti delle associazioni di categoria per trovare un punto di incontro tra l'esigenza dei pubblici esercenti nello svolgere la propria attività impenditoriale e il quieto vivere degli abitanti delle città turistiche quanto invece alla richiesta di un maggior controllo del territorio ha spiegato il prefetto Silvana D'Agostino si stanno creando le condizioni più idonee per rispondere a tale esigenza tenuto conto della recente assegnazione di un cospicuo contingente di uomini che sarà ulteriormente incrementato entro la fine dell'anno grazie all'impegno assunto dal ministro dell'interno a Foggia in vista dall'evacuazione del 2 giugno che coinvolgerà quasi 8 mila cittadini nelle ultime ore sono state diffuse le disposizioni definitive e ufficiali per i residenti della cosiddetta zona rossa ovvero l'area interessata dalla rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto lo ricordiamo tre settimane fa i militari dell'undicesimo reggimento genio guassatori unità specialistica della brigata meccanizzata Pinerolo nuovamente a lavoro all'interno del cantiere di via Spalato a Foggia per le ultime fasi della preparazione alla bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto lo scorso 9 maggio in riferimento all'evacuazione del prossimo 2 giugno dell'area interessata denominata zona rossa nelle ultime ore sono state diffuse le indicazioni per i residenti l'accesso all'area di evacuazione sarà assolutamente vietato dalle ore 6 del mattino mentre è obbligatorio per tutti essere fuori dalla zona entro e non oltre le ore 7 spostando i veicoli fuori dalla stessa l'inizio e la fine della bonifica saranno segnalati mediante l'impiego di sirene le forze dell'ordine garantiranno assidui controlli anti sciacallaggio anche mediante l'impiego di velivoli a pilotaggio remoto nella zona rossa verranno sospese le utenze secondo i piani predisposti dai rispettivi gestori la sospensione dell'acqua verrà a partire dalle ore 20 di sabato 1 giugno con riattivazione entro le ore 22 del 2 giugno per ridurre i disagi è stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotti l'erogazione del gas verrà interrotta dalle ore 5 del 2 giugno con riattivazione entro le ore 22 dello stesso giorno per le sole utenze relative a via Monfalcone via Onorato via Spalato e via Zara l'energia elettrica verrà staccata dalle ore 6 alle ore 14 del 2 giugno per chi non fosse in condizione di spostarsi ed attendere la fine dell'emergenza autonomamente sono stati istituiti dei punti di raccolta dove presentarsi a partire dalle ore 5.30 del mattino per essere trasportati mediante bus navetta presso le aree di accoglienza e attesa sul sito del Comune di Foggia è possibile consultare l'elenco di tutte le postazioni previste infine per consentire la realizzazione delle strutture necessarie alla gestione dell'emergenza dalle ore 12 di sabato 1 giugno alle ore 20 di domenica 2 giugno sarà interdetto il traffico veicolare di Piazza Cavour e noi ci fermiamo per una breve pausa a pochi istanti poi torniamo sempre in diretta con l'informazione di Antenna Sud restate con noi Bentornati con informazione interregionale di Antenna Sud sempre in diretta con le notizie più importanti dei territori di Puglia e Basilicata Ripartiamo dalla pagina politica il Partito Democratico di Terra Ionica torna a chiedere le dimissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non si può più andare avanti così sostengono i DEM il Partito Democratico torna a chiedere con forza le dimissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci parlano con voce unica ai vertici ai consiglieri comunali dei DEM il primo cittadino dicono non ha più la maggioranza come dimostrato dall'ultimo consiglio comunale di lunedì in cui senza la presenza in aula dell'ex 5 Stelle Odone non si sarebbe raggiunto il numero legale la vice segretaria regionale Vigiano il vice segretario di Taranto Delton il coordinatore di segretaria Giorno i consiglieri comunali lo non c'è il contrario sottolineano il cambio di perimetro della maggioranza parlano di ammiccamenti alla destra di blocco dei cantieri di città paralizzata nella risoluzione dei problemi dovrebbero prendere atto di un fallimento il fallimento della maggioranza del sindaco Melucci l'altro ieri pomeriggio il Partito Democratico con grande senso di responsabilità è rimasto in aula per votare una variazione di bilancio che ha consentito alla città di Taranto di recuperare 800 mila euro stanziati dalla regione Puglia per l'organizzazione dei giochi se i giochi si fanno quindi è per merito della responsabilità del Partito Democratico la maggioranza ancora una volta non aveva i numeri l'ONUCE inoltre apre altre fronti secondo il consigliere PD i dipendenti comunali afferma verrebbero spostati di ruolo d'ufficio per la loro vicinanza ai democratici quando noi siamo andati all'opposizione le persone che erano vicine sono stati spostate in altre direzioni ma le posso dire che sono persone professionali che hanno dato un notevole contributo a questa città come così lo fanno tutti i dipendenti comunali anni di volontariato in prima linea con l'associazione impegno 95 Gaetano Balena corre per il consiglio comunale barese al fianco di Nicola Sciacovelli campagna elettorale porta a porta e lo sprint delle ultime due settimane fuori dai poli anni di volontariato in prima linea con l'associazione impegno 95 Gaetano Balena corre per il consiglio comunale barese al fianco di Nicola Sciacovelli campagna elettorale porta a porta come si faceva una volta e lo sprint dalle ultime due settimane fuori dai poli sono 28 anni che sono presidente dell'associazione culturale impegno 95 e da anni che siamo sul territorio ecco perché la mia candidatura perché conosciamo bene le problematiche del territorio sono sempre stato impegnato sull'immigrazione sulla disabilità e sui minori a rischio soprattutto sui minori a rischio noi abbiamo iniziato con l'associazione con i minori a rischio finito diciamo l'orario di scuola uscivano e andavano per strada insomma e anche sull'immigrazione l'aspetto linguistico è importante per l'integrazione dei cittadini stranieri anche questo noi facciamo da anni corsi di lingua italiana lo sportello lo sportello di informazione e assistenza tra i cavalli di battaglia dei civici a supporto dell'ex consigliere comunale c'è il decentramento e il passaggio di funzioni ai municipi io ho capito solo una cosa che non lo vogliono fare perché perché sicuramente fa gola a candidare persone che poi tra l'altro sappiamo benissimo che è un passaggio soltanto di carte di cui ci vuole appunto l'autonomia decentrata perché sono loro che conoscono il territorio il problema va risolto sul territorio sul quartiere va risolto nella biblioteca nazionale di Roma si discute di futuro sostenibile delle città in un convegno internazionale promosso dai carabinieri della forestale con il governo e anche gli enti di ricerca c'eravamo The Forest City nasce con l'obiettivo di porre l'accento sul ruolo delle foreste urbane considerate colonna vertebrale delle infrastrutture verdi delle nostre città e ponte di collegamento tra le aree antropizzate e rurali il tema del convegno organizzato dall'arma dei carabinieri in collaborazione con le autorità di governo ed enti di studio e ricerca internazionali allo scopo di stimolare nuovi progetti di forestazione urbana anche attraverso soluzioni innovative durante l'estate nelle grandi città si creano delle isole termiche nel senso che la temperatura sale di 5, 6, 7, 8 gradi attraverso questo verde organizzato dai pubblici amministratori dai gestori dai privati e da tutti coloro che collaborano noi possiamo ridurre il lanzamento delle temperature della città possiamo ridurre per l'inquinamento passare dal verde urbano come arredo fragile puramente estetico è componente essenziale dell'ecologia urbana e la sfida che porta con sé il messaggio di sensibilitazione al rispetto degli alberi e all'attenzione per la biodiversità nel 2050 dicono il 70% della popolazione mondiale vivrà nei grandi centri urbani e quindi per rendere le città vivibili sostenibili e inclusive il verde giocherà un ruolo molto molto importante un'occasione dunque concreta per il futuro delle città che può svilupparsi attraverso fondi mirati e risorse provenienti dal piano nazionale di ripresa e resilienza I cittadini di Casarano e dei comuni limitrofi hanno inviato una videolettra al presidente della regione Puglia Michele Emiliano per avere certezze riguardo il futuro dell'ospedale Ferrari Continua senza sosta l'attività del consigliere comunale Marco Mastroleo ed i volontari casaranesi per ottenere risposte e certezze riguardo il futuro dell'ospedale Francesco Ferrari un presidio che deve fare i conti con la carenza del personale sanitario e le continue chiusure di reparti La tenda dei diritti diventata simbolo della protesta continua ad essere presidiata giorno e notte da tante persone che quotidianamente si incontrano per uno scambio di idee e opinioni L'obiettivo è uno solo difendere e ripotenziare l'ospedale Per questo motivo proprio dai cittadini nei giorni scorsi è partita l'idea di inviare una videolettra al presidente della regione Puglia Michele Emiliano Tutte le associazioni di Casarano ma non solo di Casarano dell'Interlad hanno partecipato attivamente alla videolettra è stato un moto di popolo bellissimo in pochissime ore abbiamo lanciato la proposta e qua di fronte allo spiazzo dell'ospedale si sono presentati 200 persone in maniera in maniera autonoma e senza grandi sollecitazioni questa è la potenza della comunicazione di oggi I comuni del comprensorio intanto hanno accettato la proposta di discutere l'argomento nei consigli comunali I comuni dell'Interland a cui è stata inviata la lettera hanno accolto la proposta con entusiasmo ne stanno tutti discutendo e già abbiamo le prime calendarizzazioni 30 maggio il primo sarà a Ragale e poi seguiranno tutti gli altri noi nell'ordine del giorno abbiamo chiesto due cose nello specifico fare un ragionamento sulla sanità del sud Salento e fare un ragionamento sulla centralità per l'emergenza urgenza dell'ospedale Ferrari su questi argomenti dobbiamo imprimere un'accelerata perché la sanità del sud Salento ha necessità di un ragionamento sovraccomunale Andiamo a San Pietro in Bevagna prima ristorante di successo poi confiscato dalla guardia di finanza di Manduria perché vecchia struttura appartenente a una famiglia mafiosa adesso l'immobile che si trova a pochi passi dal fiume Chidro sarà finalmente riqualificato dopo anni di degrado sono i primi anni 2000 questo è il ristorante più di tendenza e di successo del litorale manduriano due passi dal fiume Chidro San Pietro in Bevagna poi i militari della guardia di finanza di Manduria scoprono che la struttura apparteneva a un clan mafioso e per questo confiscata e passata nelle mani dello Stato abbandonata per anni in stato di degrado e persino oggetto di incendio finalmente l'immobile avrà una sua utilità pubblica e di carattere sociale diventando sede estiva della polizia locale e della guardia medica l'intervento di restyling dello stabile rientra nel progetto di recupero degli immobili sequestrati a organizzazioni mafiose l'amministrazione di Manduria ha approvato la delibera per il via ai lavori di riqualificazione inserendo la struttura nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e finanziato dai fondi del PNRR intervento che comprende anche una palazzina in via d'Aquino che diventerà loggio sociale per persone che vivono in condizioni di emarginazione strutture che così riacquisteranno il loro valore e finalmente restituite alla comunità Un nuovo spazio per i bisognosi non solo cucina e mensa ma anche bar e spazi ricreativi e culturali sorge a Bari grazie all'associazione Incontra A Bari un nuovo spazio per i più bisognosi in via Tanzi angolo via dieta da Bari inaugurata una nuova mensa sociale col contributo per la riqualificazione ad opera dell'associazione Incontra oltre al servizio mensa attivi anche un centro di ascolto una nuova libreria multietnica un bar a servizio delle persone senza dimora indigenti un servizio di consulenza legale dell'associazione Avvocato di strada un servizio di assistenza sulle dipendenze un ciclo di cineforum sui temi della legalità e dell'inclusione un risultato reso possibile grazie al lavoro di rete con il comune di Bari le istituzioni locali e alcuni enti privati e al supporto della fondazione progetto Arca Onlus questo è un punto di arrivo ma in realtà è un percorso ancora lungo che noi dovremmo fare noi abbiamo cominciato nel 2003 con dispensare la cena per strada in stazione centrale siamo arrivati a questo ascoltando le esigenze e le richieste dei nostri amici cui noi aiutiamo ricordiamo che i nostri amici sono a parte di Senza Dimora ma abbiamo anche tante famiglie che qui vengono la sera con i bambini per cercare un aiuto e cercare un pasto è una cosa bellissima che sta venendo in questa messa polifunzionale messa polifunzionale perché offriamo tantissimi servizi il primo quello che noi vogliamo fare è far diventare lo straordinario quotidiano Per questa edizione è tutto vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo